ora vi faccio vedere com'è andata la scena esattamente ciao edumafia buongiorno e punk buongiorno gallo buongiorno ciao ale ma che è sta storia aspetta mi faccio il tatuaggio mi fai il tatuaggio di rospo qua no fabbio dai te lo faccio io fammi un pisare no te lo faccio però no 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 vale fammelo con la penna la maglita degli occhi si toglie meglio va bene ora vi faccio vedere vi faccio vedere com'è andata tra rospo future motta e social boom so esattamente com'è andata perchè abbiamo un video che abbiamo un video adesso lo mettiamo ragazzi contenuti esclusivi ragazzi come questa finisce fributata ora vi faccio vedere esattamente come è andata e lo fissi no è andata peggio è andata peggio è andata peggio poi riprendiamo un attimino di ricreazione ragazzi un pisellino qua piccolo 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 ti faccio il video con i twitch se vuoi fammi il pisellino questo si toglie facile streamer minorenne disegna un pisello in testa allora questo è il personaggio di rospo e questo è il personaggio di social boom quindi arriva social e vada da rospo e da oh bro oh bro minchia ho avuto un'idea minchia la svolta la svolta bro andiamo lì in andiamo lì in bielorussia come in bielorussia come in bielorussia bro non è non è una è una in russia ah no bro bro vero in ucraina andiamo in ucraina andiamo in ucraina adesso minchia la svolta ragazzi andiamo lì facciamo la missione bro bro big views big money vi faccio vedere poi ci chiamano la rai cnn al jazira al jazira ragazzi al jazira ci chiamano bro la conosci al jazira no no al jazira no io dottor dre ascolto al jazira non la conosco arriva future no ragazzi al jazira al jazira al jazira è la capitale di dubai mi pare mi pare no poverino ma secondo me lui le sa queste cose bro davvero bro davvero la svolta la svolta la svolta la svolta andiamo lì eh però dobbiamo fare qualcosa dobbiamo renderla una una cosa bro una cosa tipo che li stiamo aiutando bro big money big views al jazira al jazira minchia io sta al jazira non non l'ascolto al jazira non la conosco al jazira conosco e shakira shakira la conosco canta bene no bro vero non ci posso credere no non ci voglio credere truffa su fai palle esatto esatto allora no bro allora però dobbiamo dobbiamo portare qualcosa vi siete organizzati ve l'avevo detto portate qualcosa questo è future moto vi serviva il parrucchino e io ho preso gli abbracci ah ce l'ho il parrucchino ho preso gli abbracci del mulino bianco ho preso gli abbracci del mulino bianco e portiamo portiamo anche qualcosa da bere del latte per i bambini bro bro da bere che gli da bere che gli portiamo oh oh bro io ho preso ho preso due bottiglie di vodka due bottiglie di vodka bro ma che cazzo dici ma che cazzo gli porti la vodka agli ucani quella è la bevanda ufficiale dei russi non gli portare non gli portare la vodka che quelli si incazza e gli porti la bevanda dei russi e che gli porto e che gli porto il limoncello ma non lo so io direi perché è seduto dietro future moto il macchino capito bro non lo so e gli portiamo un cuba libre gli portiamo no ho capito gli dobbiamo portare il cuba libre qualcosa del genere oppure bro un'idea favolosa gli portiamo un americano gli portiamo l'americano gli facciamo l'americano in questo momento loro sono contenti bro minchia tu si che sei un genio bro qua facciamo la storia di twitch minchia ci chiamano alla cnn ci chiamano al jazira al jazira ci chiama minchia io sa al jazira non la conosco io conosco però shakira che canta bene quindi ragazzi è andata esattamente togli il rospo dalla testa e Sì